Laura Pausini mostra un fisico giunonico. Laura Pausini si gode l'estate fino alla fine, in uno iota largo di Ponza. La cantante è stata paparazzata da diva e donna, in costume intero, insieme al compagno Paolo Carta, alla loro figlia Paola di 4 anni, e ai tre figli di lui, avuti dal precedente matrimonio. Laura ha sfoggiato un fisico armonioso, fasciato in un costume intero, un fisico che non passa certo inosservato, e di cui lei va molto fiera.